Musica Ciao a tutti e benvenuti alla seconda edizione di Mentorsharing Academy anche quest'anno Labano ci mette a disposizione una location strepitosa la risposta degli amici o comunque dei velisti veneti qualcuno arriva addirittura da Bologna è stata sostanziosa come l'anno scorso quindi saremo circa una ventina il programma Mentorsharing Academy l'abbiamo comunicato già un mese fa sarà su sei giornate, due weekend in acqua e due giornate invece in aula per ascoltare un campione che ci racconta delle sue esperienze e ci fa capire meglio determinate cose che possono sembrare banali ma solo entrando in merito a determinati argomenti si riesce veramente a comprendere e poi applicare in acqua le cose percepite o comunque capite in aula grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti